Rifiuti, ambiente deturpato e in civiltà in prossimità dello svincolo Caltagirone est della statale 683 Variante Libertinia, concepito come parcheggio scambiatore per creare un servizio ai cittadini, ma in realtà l'area si presta di scarica permanente di rifiuti. Allo stato attuale gli unici a trarne benefici sono gli svuotacantine e i cittadini che autonomamente vogliono disfarsi lontani da occhi indiscreti di ingombranti e rifiuti scomodi. Un mega immondezzaio insomma dove è possibile trovare di tutto. Sarebbe riduttivo fare una descrizione. L'area, estesa circa 5.000 metri quadri, pur essendo di proprietà dell'ANAS, ricada in territorio comunale, ma non è nemmeno di competenza del comune. In questo caso subentrano i paradossi della burocrazia. L'ente strade negli anni ha effettuato una decina o forse più di interventi di bonifica, ma con costi onerosi, sempre a suo carico. Il sito, pur ricadento in territorio comunale, non essendo materialmente di competenza del comune, lo stesso non provvede al suo mantenimento poiché non lo gestisce. A questo punto sarebbe auspicabile che i due enti dialogassero tra loro per trovare una soluzione. O meglio, considerato che ai costanti interventi di bonifica effettuati da ANAS si procedesse allo sbarramento dell'unico accesso e quindi alla chiusura definitiva dell'area o all'installazione di un sistema di videosorveglianza. Bisognerebbe quantomeno creare i presupposti, ma si sa che in Sicilia purtroppo queste ambizioni mutano in perfette utopie. Il colosso ANAS, gruppo ferrovii dello Stato, creò questo servizio nel corso dei lavori di realizzazione dello svincolo calto a Girona Est della statale 683 Libertinia, con Bivio Molona della statale 417. Grazie a tutti.